più è facile che la palla vada dentro. Siamo d'accordo? Altra cosa che è importante e che vedo spesso è altezza della palla. Quanto dovrebbe essere? Intanto l'obiettivo finale del calcio è aumentare il margine d'errore o diminuirlo? Diminuire tutte le possibilità d'errore che possono esserci. È chiaro? Siamo d'accordo tutti? Per cui quanto tengo alta la piazzola? Per cui il suo piede rispetto a il suo o il suo è uguale? Chi terrà la piazzola più bassa o più alta rispetto a quello che vi hanno detto? È chiaro? Perché appena passa sotto, ovvio che non devo grattare per terra, però non devo neanche avere molto spazio perché se ho il piede piccolo e ho molto spazio il mio rischio è che vado più sotto, più sopra e prendo più piazzola che palla. È chiaro? Siamo d'accordo? Iniziamo perché adesso è ora di iniziare. Però senza queste cose, per cui quando...